Oggi ho partecipato a due eventi, il primo sull'ospedale del futuro e il secondo sulla Connected Health. Sembrano temi distinti ma in realtà sono molto integrati fra loro perché nell'ospedale del futuro abbiamo portato l'esperienza del gruppo San Donato, il primo gruppo della sanità italiana, per rappresentare quello che stiamo facendo oggi, cioè creare un nuovo mondo connesso nella sanità, un nuovo ecosistema della sanità in cui tutti gli operatori sono in grado di parlare fra di loro, il paziente è al centro e può usufruire dei servizi che il digitale può dare per comunicare meglio con l'ospedale, con il medico e anticipare quindi i suoi bisogni di salute. Nello stesso tempo abbiamo anche rappresentato quella che sarà l'esperienza su cui lavoreremo nei prossimi anni, quello dell'intelligenza artificiale perché è dai dati e dalla costruzione dei data lake che stiamo facendo all'interno degli ospedali e nel nostro caso del San Raffaele, possiamo costruire algoritmi predittivi che possono aiutare il medico a scegliere la terapia giusta per il paziente giusto. Questa è la medicina del futuro, questa è la medicina personalizzata, quindi il mondo connesso è quello che consentirà di avere i dati su cui si potranno poi applicare questi algoritmi per rendere sostenibile il nostro sistema sanitario nel futuro e scegliere la terapia migliore per il paziente. Avere queste occasioni di confronto è indispensabile, ognuno di noi cerca le soluzioni migliori per portare il cambiamento all'interno della propria organizzazione, ma anche portare il cittadino ad utilizzare i sistemi. Quindi lavorare insieme con gli stessi obiettivi e confrontarsi su cosa ha avuto successo o meno è indispensabile. Questo si riesce a fare solo quando non si va semplicemente ad un convegno o ad un webinar, ma si ha la possibilità di confrontarsi anche in tavoli ad hoc su singoli argomenti, come in questa occasione. Grazie per la visione!